Espressionismo, emozioni ed espressività, colori accesi, deformazione, fauve, diebruck. Allora, diciamo subito che l'espressionismo non riguarda solo le arti figurative, ma anche la letteratura, la musica, il teatro, la scenografia e l'architettura. In pittura l'espressionismo è un'evoluzione dell'impressionismo, ma le differenze sono davvero profonde. L'artista impressionista guarda la realtà, l'ambiente che lo circonda, che lui vede bello, piacevole, e cerca di rappresentarne le emozioni che questa natura suscita in lui. L'artista dell'espressionismo, invece, scava più profondamente nelle sue emozioni, nella sua interiorità, e quindi è meno interessato alla natura che lo circonda. Per lui è quasi solo un tramite, un mezzo, per entrare in contatto col suo animo. Se l'impressionismo è in fondo un movimento artistico che produce comunque opere piacevoli alla vista, anche gradevoli, comunque mediamente positive, l'espressionismo, invece, è una scelta molto drammatica. La pittura espressionista spesso è, lo possiamo dire, ma si dai, è brutta, è sgradevole, è deforme. Spesso è davvero molto distante dalla realtà, anche se poi sempre da lì si parte. L'espressionismo parte sicuramente da Van Gogh, da Gauguin, da Munch, insomma, dai pittori che per primi iniziano ad usare colori forti e non sempre realistici. Artisti che guardano sicuramente la realtà, ma non sono interessati a rappresentarla in maniera proprio somigliante, anzi, colori sono molto forti, tratti decisi, contenuti drammatici, anche quando vengono rappresentate delle scene che, in teoria, potrebbero anche essere delle scene serene, serene come una notte stellata. Nel 1905 in Francia troviamo l'inizio dell'espressionismo. In questo periodo, infatti, un gruppo di pittori un po' strani espone le loro opere al Salone d'Autunno di Parigi. Sono opere di grande impatto cromatico, sono violente, insomma, sono opere che diventano a tutti gli effetti un pugno in un occhio, paesaggi bidimensionali e in più con dei colori assurdi. Ecco quindi che vengono chiamati fauves, le belve, pericolose, selvagge e chiassose. Il primo a chiamarli così sarà proprio un critico d'arte, che trovandosi di fronte a queste opere esposte in un'unica sala, la definì come una gabbia di belve. Leggenda vuole che nella sala ci fosse al centro esposta una scultura normale, una cosa tradizionale, e guardandola, il critico esclamò, ecco Donatello tra le belve, e belve rimase come nome. Ed eccovele, le belve, di questo gruppo di pittori, che poi, insomma, tanto gruppo non sarà mai, perché ognuno portava poi avanti le sue idee, non c'era un'idea, un programma comune. Fanno parte anche Matisse, Vlamenck, Deren, Marquet, Manghià, Camois, ma anche Brac, che poi però virerà decisamente più verso il cubismo con Picasso. Scordatevi le gradazioni di colore, i volumi dati dalle ombre, scordatevi, insomma, le basilari regole del dipinger bene. Qui si torna all'arte primitiva, all'istinto primordiale. Del resto si parla di un movimento artistico di avanguardia, un momento, insomma, di rottura col passato in cerca di uno stile completamente nuovo. In due anni di attività, fino cioè all'arrivo del cubismo, che andò un po' a destabilizzare le varie personalità presenti nei FAUV, fino ad allora i FAUV proposero opere con forme semplificate e chiari richiami all'arte africana. Non ci sono molti intenti polemici o critiche verso la società, quindi alla fine il risultato, grazie anche all'uso di questi colori forti e puri accostati tra loro, è comunque un risultato, uno stile meno angosciante delle opere dei loro parenti tedeschi, che adesso andiamo a vedere. Nello stesso anno della nascita dei FAUV a Parigi, in Germania, a Dresda, si riuniscono i membri del gruppo di Brücke, il ponte, nel senso proprio di un ponte fra un nuovo stile e il vecchio mondo dell'arte. Sono gli espressionisti tedeschi, fra i maggiori rappresentanti, che sono poi quattro studenti della facoltà di architettura, troviamo Kirchner, Ekel, Schmidt-Ratfle, Bleyl, qui si aggiungeranno anche altri come Nold e Pechstein. Anche in questo caso, scordatevi gradevolezze e bellezze nel significato più classico del termine. Qui si parla proprio di violenza cromatica, di deformazioni, che portano quasi ad ottenere delle caricature. Il tutto, oltretutto, con una caratteristica comune, la drammaticità e l'angoscia psicologica. Insomma, questi sono artisti impegnati. Fanno dell'arte un mezzo per criticare la società borghese, che da loro è giudicata anche ipocrita, e criticano anche uno stato militarista e violento. Del resto, qui, si sta preparando una guerra mondiale. Non dimentichiamoci che Kirchner stesso morirà suicida nel 1938, proprio nel momento in cui un certo Hitler riscuoteva il suo massimo consenso. Del resto, proprio Hitler, nel 1933, aveva definito l'arte degli espressionisti come arte degenerata. Aveva addirittura ritirato le loro opere dai musei e, quando possibile, le aveva proprio distrutte. Non stendono il colore. Il loro colore è talmente denso che è praticamente spalmato. I contorni sono vistosi e nervosi. Le figure stesse sono spigolose. Spesso utilizzano anche la xilografia, sia perché rendeva graficamente il tratto deciso che preferivano, a loro gli piaceva proprio questa cosa, proprio era bello evidente, sia anche per quel legame con l'arte del passato, la lavorazione semplice del legno, che comunque permetteva una tiratura di stampe molto comoda, anche per poter distribuire meglio le loro opere. E sempre secondo quest'idea, molti espressionisti diedero vita anche a pubblicazioni di riviste indipendenti, proprio per raggiungere con le loro idee e le loro proposte quanta più gente possibile. Poco dopo i due gruppi precedenti, a Monaco, si forma il gruppo del Cavaliere Azzurro per un breve periodo, dal 1911 al 1914. Finisce proprio con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, anche perché Mark e Mache furono uccisi in combattimento, mentre Kandinsky fu costretto a tornare in Russia a causa della sua cittadinanza. Fra i fondatori, infatti, di questo gruppo troviamo Kandinsky, Mark, Klee, Mache. Il nome ha origine proprio dalla passione per il colore blu di Kandinsky e per i cavalli di Mark. Tra l'altro, Kandinsky nel 1903 aveva creato un'opera d'arte proprio con questo nome, il Cavaliere Azzurro, Der Blaue Reiter. Nel 1913, questi artisti espongono anche il Salone d'Autunno tedesco. Questi artisti si interessano di arte medievale, ma anche di primitismo e anche di musica. Del resto, Kandinsky studia pianoforte e violoncello, mentre Klee, che è anche violinista, è comunque figlio di un professore di musica. Insomma, un bel mix. Anche qui troviamo un uso del colore sicuramente più simbolico che naturalistico, ma c'è una ricerca che punta più verso i valori spirituali che un utilizzo dell'arte come una forma di accuse e protesta che erano invece cose tipiche del gruppo del ponte. La pittura di questi artisti è sicuramente antinaturalistica, basti pensare alla mucca gialla con queste montagne blu, l'erba rossa, oppure i cavalli azzurri, insomma. Del resto, è proprio da qui che avrà inizio il cammino verso l'arte astratta. Pensate che questi artisti crearono anche un almanacco, nato con l'idea di farne un periodico, ma alla fine ne uscì un'unica copia, nel 1912, poi venne anche ristampata più volte, con opere di Kandinsky, Picasso, artisti anche della Brücke, assieme anche a opere afrasiatiche, spunti del Giappone, prodotti dell'artigianato, arte popolare e schizzi infantili. Insomma, davvero di tutto di più, diventando così un vero e proprio documento sull'astrattismo. Non direttamente coinvolti nei gruppi dei pittori espressionisti, ma comunque molto legati a questo nuovo stile per temi, tratti grafici e periodo storico in Austria, troviamo Schiele e Kokoschka. Schiele è anche incisore, vi ricordate la xilografia tanto cara agli artisti del ponte? Ecco, insomma, siamo lì, eh? Schiele è allievo di Klimt, parte quindi da un'arte figurativa che tende già all'astratto, perché ha tratti quasi solo pura decorazione, ma Schiele è diretto contemporaneo di Freud, l'uomo che con le sue teorie psicoanalitiche stravolge tutto il mondo dell'epoca e lo stesso fa anche Egon Schiele, che mostra nei suoi dipinti senza falsi pudori dei nudi scandalosi, apposta, e lo fa proprio apposta, diretti contro la morale borghese, sono corpi nudi, contorti, a volte anche sproporzionati, sgradevoli, eh? con un tratto spigoloso tipico degli artisti espressionisti e un'area generale molto drammatica. Per lui anche il nudo e l'amore sono scomodi e a tratti sgradevoli. Verrà infatti accusato ad essere osceno e finirà anche in carcere. Anche Kokoschka, parte da Klimt, lo ammirava moltissimo, per poi, però, fare decisamente altro, tanto che anche lui sarà perseguitato dal nazismo perché è considerato esponente dell'arte degenerata. Usa colori torbidi, spessi, con delle pennellate grossolane. Per esempio, nella Sposa del Vento, le onde diventano vento, ma è un vento contorto perché è una pittura espressionista e quindi spigolosa, sgradevole, anche quando si parla di aria ed amore perché anche qui c'è il dramma e il presagio che questo amore finirà male come infatti accadrà davvero fra l'artista che qui si autoritrae con la sua amante ma sarà una storia d'amore senza lieto fine.